Salve a tutti, sono Gabriele Cirilli, chi è Cirilli? Ma quella è un'altra storia, sono qui per ringraziarvi, ringraziarvi perché ho ricevuto un premio molto importante, Books for Peace, presente in 5 continenti, 61 paesi, e quindi io sono molto orgoglioso e promuove, promuove dei valori a cui io sono molto affezionato, promuove la pace e io sono stato educato, io sono un pacifista, vengo da una famiglia pacifista, sono stato educato alla pace a furia di schiaffi in faccia da parte di mia madre. A parte gli scherzi promuove anche la cultura, più colti di me, io e la cultura stavo così, io sono quello di sopra, che vi credete? La cultura è come non sapere, per esempio, Pirandello, quando dice essere o non essere, questo è il problema, o diceva Pirandello, ogni volta che cito queste grandi frasi è come se avessi una spada di Sofocle qui... Diciamo che questo premio promuove anche lo sport e io sono uno sportivo incredibile, io sono, soprattutto dopo i 50 anni, mi sono rimesso in forma, ho fatto running, mi sono dato a running e ho comprato tutto quello che riguarda il running, ho comprato le scarpe da running, i calzettori da running, i pantaloncini da running, maglietta da runner, fascetta da runner, poi ho buttato tutto questo materiale il giorno dopo perché ho capito che running vuol dire che devi correre e poi promuovi i diritti umani. Qui non mi va di scherzare, anche perché ancora oggi sono calpestati e questo è molto grazie. Quindi io ringrazio Books for Peace per quello che fa nel mondo e soprattutto per il premio che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie infinite. Sono veramente onorato.